Musica Rieccoci in diretta, è qui con noi Viola Carofalo, buonasera Viola Carofalo, portavoce di Potere al Popolo, lista che ovviamente anche lei concorre a queste elezioni del 4 di marzo Ripresento i colleghi per chi si dovesse essere sintonizzato sia per radio che dovesse aver in questo momento acceso la tv Quindi Arturo Celletti di Avvenire, Paolo Petrecca di Regnus24 e Salvatore Dama di Libero Allora prima di cominciare la nostra chiacchierata vediamo insieme il servizio che Angela Bianchi ha preparato Proprio su questa vostra campagna elettorale che avete portato avanti fino ad oggi Ok grazie Sono giovani pensionati precari attivisti nel sociale per la lotta alla casa in difesa degli immigrati Ex partigiani e pacifisti in questa campagna nervosa con scontri e accoltellamenti Hanno sfilato a macerata e si sono travestiti da fantasma per denunciare il disinteresse dei media Niente alleanze dicono Alla democrazia dei clic preferiscono quella dell'assemblea e marcano la differenza Noi siamo di sinistra dice la leader non candidata ricercatrice precaria all'università di Napoli Noi siamo la parte migliore del paese Quelli che non comandano, quelli che non parlano, quelli che non hanno il potere Nati a novembre scorso dall'appello del centro sociale napoletano, l'ex OPG, soppazzo con potere al popolo Anche di fondazione comunista, il partito comunista, la sinistra anticapitalista, i sindacati di base in ottava E l'ex leader della FIAU Macremaschi La sovranità appartiene al popolo Chi gliel'ha portata via? L'Unione Europea I trattati Le banche La finanza Rompere tutto questo è la prima condizione per ridare sovranità democratica al popolo A loro il messaggio di Ken Loccio Con loro il leader della sinistra francese Mélenchon In duecento dal mondo della cultura Hanno risposto all'appello del regista Citto Maselli Da Monio Vadi al vignettista Vaure Tra i candidati Paolo Pietrangelo Autore di Contessa Compagni dai campi e dalle officine Prendete la falce e portate Riaccoci in diretta Allora non possiamo non cominciare questa nostra chiacchierata Non partendo, dico purtroppo, dai fatti di cronaca Sembra quasi di essere ritornati un po' indietro agli anni 70 Quindi se non sbaglio oggi a Perugia Ci sono stati due ragazzi Esatto, che sono stati aggrediti Che facevano parte della... Aderivano alla vostra lista Insomma, attacchiando i manifesti Esattamente Ieri a Palermo era stato aggredito il segretario di Forza Nuova Insomma, cosa si può fare per evitare di arrivare a questo? È il domandone Perché mi rendo conto che insomma Non è una cosa facile Non si può ridurre... Non è la risposta a essere difficile È la situazione E io lo dico sinceramente È una cosa che mi mette anche emotivamente a disagio Perché non è la prima aggressione Sono mesi e mesi Che non soltanto gli attivisti antirazzisti Penso alla situazione che si è verificata a Como Ma tante persone che semplicemente hanno la colpa di essere omosessuali Hanno la colpa di avere la pelle nera Sono state aggredite Un problema in Italia c'è E sicuramente non si risolve soltanto con l'illegalizzazione delle organizzazioni neofasciste Ma passa anche per l'illegalizzazione Per la messa fuori legge di queste organizzazioni Noi un mese fa un altro attivista è stato accoltellato Un altro nostro attivista a Genova è stato accoltellato Sono cose che accadono tutti i giorni Io vorrei precisare soltanto una cosa Poi sono d'accordissimo con la dichiarazione che ha fatto Orlando Il sindaco di Palermo su questo La sottoscrivo in pieno Quando parlava della lotta al fascismo Come qualcosa che dobbiamo portare avanti con la resistenza La dobbiamo portare avanti con la cultura Cito le sue parole perché mi sono sembrate appropriate Questo problema non riguarda gli attivisti dei movimenti sociali Riguarda tutti Su questo voglio essere chiara Gli aggrediti in questi mesi, in questi anni Non sono solo gli attivisti dei movimenti sociali Sono persone comuni Non perché gli attivisti non lo siano Ma come dire Non sono collegati Quindi un pericolo c'è Il pericolo fascista però Sono le organizzazioni neofasciste Ma sono anche tutti quelli che gli hanno dato spazio Che li hanno fiancheggiati Che per paura forse di perdere un voto Non hanno detto dopo l'attentato di Macerata Che quello che è accaduto era ignobile Era un attentato fascista Perché che fosse un attentato terrorista e fascista Non l'ha detto nessuno E che hanno fatto invece un collegamento Secondo me vergognoso e pericoloso Con l'omicidio Di Pamela E con addirittura La questione della presenza di persone straniere Sul nostro territorio Credo che ci sia una responsabilità precisa su questo E sono d'accordo che la situazione è molto grave Io credo che una campagna elettorale Con gente a terra Accoltellata Non si vedesse forse da molti decenni Però mi perdoni La violenza è un po' da tutte e due le parti Perché ieri a Palermo È stato preso a bastonate Comunque sia un fatto di cronaca Il segretario E lui ha detto sì Quando si è nervosi queste cose si possono scrivere Parlavamo del comunicato ufficiale E della sua forza politica Allora quando si chiede perché succedono queste cose Ci sono tante spiegazioni di tanti gradi Ma penso che come dire Questo sia il problema E questa sia l'impostazione Arturo Celletti Rimarrei su questo tema Mi pare di capire Che qualcuno di voi sta dicendo Sta facendo ragionamento di questo tipo Si sta alzando la tensione Si sta incendiando il clima Per giustificare quello che potrà succedere dopo il 4 marzo Cioè le larghe intese Lei pensa questo? Io penso che Quello che sta accadendo giova Soltanto a due tipi di persone Quelli che giocano sulla paura Sulla guerra tra poveri Sul fatto che c'è chi sta peggio di te Che è il tuo problema E cioè il migrante Il senza tetto E giova a chi in qualche modo Vuole il cosiddetto voto utile La stabilità Che fino adesso è servita soltanto A fare politiche di austerità E a mettere in ginocchio I poveri e le classi popolari Io credo che giovi a questi A questi signori qua E penso che si stia facendo un gioco Molto pericoloso Io capisco che C'è gente che vuole appunto Il voto in più E vuole rimanere attaccata alla poltrona Però sinceramente a me Fa tremare le gambe questa situazione Io lo dico proprio schiettamente Forse non ho la giusta formalità Le pare di capire che ci può essere Una sorta quasi di regia A me sembra di sì Se non una regia Come dire Le regie possono essere di tanti tipi Uno può programmare qualcosa E non è detto che sia così O può fare in modo che qualcosa che accade Penso alla situazione di Traini Abbia uno spazio E sia raccontata Perché il racconto importante Il racconto dei media Il racconto che i politici ne fanno Sia raccontata al fine Di costruire una storia E questa storia dice Che l'Italia è in pericolo È in pericolo per colpa dei poveri È in pericolo per colpa dei migranti Il che è assurdo Per quanto mi riguarda E che quindi Di cosa abbiamo bisogno? Non di scuola Di sanità Ma di sicurezza Di repressione Questo credo sia il discorso Tra l'altro Tra l'altro al termine Di questa conferenza stampa Sarà ospite nostro Roberto Fiore Quindi avremo modo Anche di affrontare con lui Tutte queste questioni aperte Insomma Paolo Petrecca Allora C'è una cosa che A me sembra un'incongruenza Tra quello che lei sta dicendo adesso E l'affermazione che ha fatto oggi Se ho letto bene le agenzie Magari mi correggerà Che Alla richiesta di partecipare Alla manifestazione Che il PD Vuole fare il 24 Lei ha detto È una manifestazione A cui non andiamo Perché L'operazione di Minniti È un'operazione fascista Ora Io vorrei che lei spiegasse Questa cosa Allora Il discorso è questo Molti di noi andranno Perché molti di noi Sono iscritti all'Ampi Sono nell'Arci Quindi alla fine Come militanti Come attivisti Andranno Al di là della posizione ufficiale Sì Ritengo di sì Ritengo anche che sia giusto Che facciano bene andare Io Noi non abbiamo aderito Per un motivo Quando lei dice Minniti è fascista Io non è che uso questo termine Con leggerezza Io penso che però Bisogna vedere Cosa Minniti ha fatto Non mi riferisco Soltanto al tentativo Di mettere fuori legge La manifestazione di Macerata Della scorsa settimana Che è stata una manifestazione Bellissima Io credo che si possa Solo essere orgogliosi Di quel corteo Ma mi riferisco Al daspo urbano Le faccio un esempio Cioè a dire Che i cosiddetti Indecorosi Che per me è un termine Orribile E che richiama Ad altri regimi E altre storie Alle vite non degne Lo diceva qualcun altro Devono andare fuori Dai centri storici Perché? Perché sono sporchi Perché puzzano Quindi qual è il problema Della povertà? Che deve essere messa Sotto al tappeto E poi Rispetto alla questione Dei migranti Quando il decreto Miniti prevede Di togliere Il secondo grado Per i richiedenti asilo Perché Chi è straniero Non deve avere Un diritto Che chi ha la pelle bianca Deve avere Cosa è questa Se non è una legge razzista? Allora il problema Mi lasci dire Non sono i quattro buffoni Io li definisco tali Me ne prendo la responsabilità Di forza nuova Di Casa Pound Perché di cretini Ne è pieno il mondo Poi possono diventare cinque Possono diventare sei A me preoccupa E quindi vorrei come dire Che questa deriva Si frenasse E fosse frenata Il problema Sono quelli che invece Prendono il 20% E prendono il 30% Mi riferisco a Salvini Che cavalca L'ondata razzista O a Miniti Che fa leggi Apertamente Antipopolari E razziste E che però Come dire Hanno un volto diverso Allora Io non so Se vogliamo utilizzare Questo termine o meno Sicuramente Sono politiche Antipopolari Però la nostra sensazione Almeno la mia sensazione Da giornalista È che Voi della sinistra Ce l'abbiate un po' Sempre con il PD Perché anche questo discorso Che lei sta facendo Su Miniti Ovviamente Fa risaltare questo Perché ce l'avete sempre con lui? No no Io ce l'ho anche con Salvini Io l'ho nominato prima Ci mancherebbe altro A scanso di equivoci L'ho nominato C'è una sorta di parcondicio Però sembra impossibile Un dialogo tra voi Ecco questo è Ma Sembra impossibile Un dialogo tra noi Ma il dialogo è impossibile Perché Miniti Pensa che L'antifascismo sia un crimine Ma che essere poveri Sia un crimine Cioè A noi ce ne può anche Non fregare niente Dell'antifascismo Probabilmente A molta gente Siccome Come dire Purtroppo ci hanno costretto Soltanto a guardare Se riusciamo a mettere Il piatto a tavola E non a guardare molto oltre Non gliene frega niente Ma essere poveri Non è un crimine Non è un crimine E non è neanche Aggiungo una cosa Che forse è poco politica Ma la quale tengo Non è neanche una colpa Non riuscire a avere un lavoro Non riuscire a curarsi Non è un crimine Invece ci stanno facendo credere Che se tu non ce la fai È colpa tua E che se addirittura A un certo punto Voi a dormire in macchina Non solo è colpa tua Ma sei indecoroso E devi anche Come dire Non disturbare la vista Di invece Di chi ce l'ha fatta E la gente che oggi Dorme in macchina O che non ce la fa arrivare Alla fine del mese Non è che sono i marginali No, sono persone normali Che la mattina vanno a lavorare O che sono pensionati Che non arrivano a fine mese Io da attivista di base Che si occupa anche Di contrasto alla povertà Queste cose le vedo Le vedo tutti i giorni Sono persone normali Non sono marziani Salvatore Dama Io volevo chiudere una battuta Con la domanda del collega Si fa prima A fare l'elenco Delle persone Che le sono simpatiche E forse quelle Che ne sono Antipatiche Di politici Non mi sta simpatico nessuno Se no non facevamo una lista Votavamo direttamente Qualcun altro Però di persone Me ne sono simpatiche molto Lo posso immaginare Lo posso sperare anche Io le volevo chiedere Che cosa significa Per lei mettere fuori legge I partiti fascisti Nel senso che Se un partito Come Casa Pound Oppure come Italia Gli italiani Ha raccolto le firme Quindi si propone All'elettorato In una logica democratica Se il fatto Che siano portatori Di un'idea Che si richiama In qualche modo Il ventennio Il passato E via dicendo Le ponga comunque Al di fuori Dalla costituzione Nonostante la costituzione Dia il diritto A chi segue le regole E la democrazia Di presentarsi E di fare campagna elettorale No La costituzione prevede Il fatto che non si possa Ricostituire il partito fascista E che l'apologia di fascismo Sia un reato Ok Visto che di Stefano Non è che Come dire Mi ha fatto Non ho un rapporto Per fortuna personale Quindi non è che Mi ha fatto Come dire Una confidenza al telefono Due giorni fa A Napoli Pubblicamente Alla conferenza del suo partito Ha detto che lui Si dichiara fascista E si riconosce nel fascismo Come dire Lo dice lui Non lo dico io Che è fascista E che si richiama a quell'idea In più Aggiungerei questo Il problema Non è solo il fascismo storico Perché Come dire È certamente un problema A me Turba molto Vedere anche la revisione E tante volte La rivalutazione In alcuni casi Del fascismo storico Il problema è anche Cosa si fa oggi In nome di quell'idea E credo che si compiano Atti molto gravi Ne parlavamo prima E le faccio una domanda Un po' provocatoria Ma Lei accetterebbe Un partito Che si chiama Il partito della mafia? Accetterebbe un partito Che si chiama Il partito dei pedofili? Io penso che ci sono Delle cose Che è Torno a dire Non lo dice potere al popolo Lo dice la Costituzione Che non sono opinioni Sono reati Il fascismo in questo paese Non è un'opinione È un reato Quindi Se di Stefano È lui che lo dice Non lo dice potere al popolo Non lo dice Non so nessuno per dirlo Lo dice lui Dice sono fascista Sto costruendo un partito fascista Cosa stiamo aspettando? Allora la domanda È sempre a chi giova A chi serve questa gente? Io credo che serva A quello che dicevamo prima A richiamare un'idea di stabilità Che poi consente di far tutto Perché poi quando uno richiama La sicurezza La stabilità Come dire Può far tutto Perché quando si evoca Un pericolo enorme Poi si ha mano libera E serve come dire A dare varie gradazioni Di idee tutte pericolose E tutte inquietanti A noi piace La solidarietà sociale Ci piace l'aiuto Ci piace il mutualismo Siamo gente normale Questa gente non è normale Questo io vorrei dire Allora adesso Interrompo questa nostra chiacchierata Per vedere insieme Il servizio Che ha preparato Angela Bianchi E per vedere un po' più da vicino I punti chiave Del vostro programma Contro le disuguaglianze sociali E la precarietà No ai nuovi fascismi E ai diritti negati Questo è il manifesto Di potere al popolo Che propone anche Di cancellare Il concordato con la Chiesa Nel programma sul lavoro Punta l'abolizione Il Jobs Act A ripressione L'articolo 18 E della Scala Mobile Via anche la riforma Fornero Con la pensione a 60 anni E reintroduzione Della minima Contro la povertà E per l'inclusione Previsto il reddito minimo garantito L'abolizione Dei ticket sanitari E un piano straordinario Per un milione Di alloggi sociali Sul fisco La tassa sui grandi patrimoni E più scaglioni Irpef Per sostenere I redditi più bassi E colpire Quelli più alti La lista promuove Inoltre la pace E il disarmo Dice no Alla subalternità Alla Nato E propone di sottoporre Al referendum Le decisioni Prese dall'Europa Migranti Piano di accoglienza Diffuso sul territorio Per facilitare L'inserimento Sia lo iussoli A matrimoni gay Adozioni figli Anche per i singoli Infine Cancellazione Il 41 bis Il carcere duro Per i mafiosi Rieccoci in diretta in studio Senta Faccio un po' la domanda Che ho fatto A chi l'ha preceduta Se lei Diciamo Libro dei sogni Da domani È al governo Quale sarebbe Il primo provvedimento Che metterebbe in cantiere? Cancellazione del Jobs Act Sicuramente quello Per una ragione Molto concreta Che io penso Che i tempi di vita Il modo in cui Si lavora Sono strettamente collegati Lavorare eternamente Da precari E il Jobs Act Ce lo consente Lavorare con la spada Di Damocle Di un licenziamento Che anche se è fatto Senza giusta causa Non prevede il reintegro Non è vivere Non è poter costruire Relazioni sociali Non è potersi fare Se uno la vuole fare Una famiglia Non è vita Quindi secondo me Il punto centrale Da affrontare È quello del lavoro Quindi anche R'introduzione Dell'articolo 18 Sì Estensione E per le pensioni? Le pensioni Lei mi ha chiesto Soltanto ora Mi ricollego al discorso Lavoro pensioni Che sicuramente Interessa chi ci ascolta Allora sulle pensioni Noi pensiamo che La questione della pensione Minima e dell'innalzamento No perché adesso Si va a sbandierare Questo 11% Di innalzamento Sono 7 euro Io lo vorrei L'11% Sono 7 euro Per la minima E non si vive Con 500 euro al mese Dove si possono trovare I soldi? Prevengo la domanda Intanto Limitando le pensioni Massime Noi pensiamo che Come dire Non ci sia bisogno Dei paperon Dei paperon C'è bisogno Di vivere tutti Un po' meglio Pensiamo che L'idea di distribuzione Della ricchezza Sia attuale E sia importante E centrale Da perseguire Quindi certamente Bisogna abolire La fornero E perché bisogna andare In pensione prima Perché noi troviamo Che sia un assurdo Che c'è gente Che vuole entrare Nel mondo del lavoro E che arriva a 30 anni A 31 anni A 32 anni Senza riuscire a cedere E gente che disperatamente Vuole andare in pensione Perché non ce la fa più E non può andare in pensione È un controsenso E quindi Crediamo che anche Su quello Si dovrebbe intervenire Il sistema Arturo Celletti Immaginando che davanti Adesso alla televisione Ci sono Magari quei ragazzi Che hanno aggredito I vostri compagni Che cosa Gli verrebbe in mente Di dirgli Di trovarsi Un'occupazione Perché secondo me C'è molto Come dire C'è molto tempo libero Quando vengono queste idee Allora io gli dico Fate una bella cosa Invece di passare la notte Col coltello nella tasca Andare in giro per la città Non lo so Provate a fare Lavoro sociale Lavoro sul territorio Visto che Che ne diciate Ne fate pochino E mi riferisco Al fatto che loro Sbandiranno tanto Il loro lavoro sociale Quindi andassero A trovarsi un'occupazione Si dice a Napoli Vai a rubare Ma non è letterale Significa Trovati qualcosa Di più utile da fare Paolo Piotrecca Lei diceva poco fa Vivere meglio Quindi no ai paperoni È un po' Vicina Secondo lei Alla posizione Dei 5 Stelle Che parlano di reddito Di cittadinanza E quindi Si potrebbe ipotizzare Che domani Entraste in Parlamento E quindi mi ricollega Anche la domanda Che faceva Susanna Potreste dialogare con loro? Allora Rispondo Alle due questioni Intanto No ai paperoni Significa tante cose Non soltanto Il reddito di cittadinanza Che è Secondo noi Un intervento importante Soprattutto Per uscire Dalla soia di povertà Per liberarsi Di questi incubo Che è la povertà Quindi potersi Permettere un affitto Poter riscaldare La propria casa Poter non contare I centesimi Per fare la spesa Quindi Sicuramente Questa è un'iniziativa Importante È importante Però secondo noi È centrale Il lavoro Perché noi pensiamo Che il lavoro degno Faccia la vita degna Quindi è importante Che ci sia La possibilità di lavorare Non soltanto Come dire Misure di supporto Alla mancanza di lavoro Rispetto a quello Che lei mi chiedeva Noi non immaginiamo Alleanze Con i 5 stelle Ci sono tanti punti Su cui non siamo d'accordo Siamo divergenti Certo Se loro fanno una proposta Che ci convince Su delle questioni Sulla questione del reddito Perché no Perché non votarla Però non immaginiamo Nessuna alleanza possibile Salvatore Dama Mi spiega questa proposta Dell'abolizione Dell'articolo 41 bis Perché lei Alla fine viene In una città Complessa Dove C'è una grossa infiltrazione Camotistica Sono al di sopra Di ogni sospetto No Perciò mi incuriosisce A maggior ragione Certo no Scherzavo Sì Gliela dico Le dico però Le faccio una premessa Siccome è una domanda Che c'è stata fatta Ovviamente spessissimo Perché mi rende conto Che salta all'occhio No Per noi C'è un ragionamento Più complessivo Sulla riforma del carcere Il carcere oggi In Italia È una discarica sociale Ci vanno soltanto I poveracci Quelli che non si possono Permettere di fare altro E ci tornano Perché C'è una recidiva altissima E perché il carcere Non dà alternative Non c'è nessuna misura Di reinserimento Si vive in delle condizioni Inumane E quelle persone Sono persone che hanno diritto Anche se hanno sbagliato Anche se hanno compito Dei crimini Comunque a veder rispettati I loro diritti Arrivo quindi al 41 bis Il 41 bis Riguarda questo discorso Più complessivo Per noi Il discorso è Pene giuste Pene misurate Ma non tortura Vendetta Perché noi sappiamo Che molte volte E anche qui Noi ci chiamiamo Potere al popolo Ma non siamo populisti Non vogliamo parlare Alla pancia di nessuno Non vogliamo parlare Alla testa Al cuore Vogliamo essere popolari E allora diciamo che La pena giusta È una cosa La vendetta La sopraffazione La violenza Non devono appartenere Allo Stato Anzi Lo Stato deve emancipare Da questi sentimenti E dunque Siccome il 41 bis E non lo diciamo noi Lo dice l'ONU È tortura Ed è tortura Non nella misura In cui non fa comunicare Il boss fuori dal carcere Perché quella è sicuramente Una misura giusta E che va mantenuta Però Che una persona Non si possa cucinare i pasti O che una persona In fin di vita Non possa ricevere Un saluto dalla moglie Che cosa ha a che fare Con la lotta alla mafia Con la lotta alla camorra Secondo me niente Invece ha molto a che fare Con la lotta alla camorra E lo dico da persona del sud Che quindi a questi qui Li odia Perché Ci hanno rovinato la vita Hanno rovinato la mia città Hanno rovinato la mia terra Ci hanno avvelenato Materialmente Con la terra dei fuochi Io penso che la lotta alla camorra E la lotta alle mafie Passi per due cose La prima Il lavoro Levagli braccia E levagli consensi Perché se uno non lavora Ed è strozzato Il rischio È che si faccia Come dire Conquistare Dalle file Delle organizzazioni criminali E la seconda Riguarda Levare i soldi Dalle tasche A questi signori Si può parlare Di accoglienza Si può parlare Di vendita Delle droghe leggere Loro non devono poter fare affari Dobbiamo sequestrare quello che hanno Bisogna essere rigorosi E non bisogna lasciare Degli spazi grigi Nei quali questi signori Fanno affari Il settore dell'accoglienza È oggi Lo dice L'inchiesta Romana Ma lo dice anche La cronaca quotidiana Di regioni Come la Campania La Calabria È l'affare Per il sistema Mafioso Per il sistema Camorristico L'affare con la maiuscola Leviamo gli soldi Dalle tasche Diamo lavoro Alla gente Secondo me Queste sono le misure Il quarantonobis È una tortura Non serve a niente Nella misura in cui Avere un poster Nella cella Non leva e non mette È solo una pressione Psicologica E noi non dobbiamo Esercitare la vendetta Dobbiamo esercitare Come è stato La giustizia Io ci credo molto In questa cosa E quindi Anche se so Che è impopolare Anche se so Che qualcuno Storcerà il naso Perché è più bello Sentirsi dire Buttiamo la chiave Che muoiano tutti Ammazziamoli Torturiamoli Noi questo non lo diremo mai Perché siamo persone umane E vogliamo rimanere umani Senta Voi siete a sinistra del PD Come a sinistra del PD E liberi uguali Tanto per fare un po' chiarezza Rispetto agli elettori Che poi dovranno mettere La famosa Crocetta X Sulla scheda Quali sono le differenze Tra voi E liberi uguali Allora Intanto Liberi uguali A me Non ne parlo quasi mai Perché non Però lei me l'ha chiesto Quindi Perché non mi Come dire Preferisco parlare di me Che degli altri Però No ma le differenze Non le Ci mancherebbe No Diciamo che secondo noi Sono in piena continuità Col PD Lo sono come persone Quindi Il loro leader politico I loro Diciamo maggiori esponenti E lo sono In sostanza Come politica Perché poi uno In campagna elettorale Può dire quello che vuole Può anche promettere Mari e Monti O di diventare Robin Hood Resta il fatto Che se è stato al governo Fino a tre mesi prima E determinate leggi Penso al Jobs Act Penso alla buona scuola Le ha votate Poi diventa contraddittorio E mi faccio dire anche Un'altra cosa Siamo molto diversi Nella costruzione Del partito Del movimento Noi siamo Completamente orizzontali Abbiamo scelto Tutte le candidature Con le assemblee territoriali Le abbiamo scelte dal basso Senza litigare Che per un movimento Di sinistra Lo riconoscerete Con i vecchi Canoni e criteri Della vecchia Mi perdoni La politica Cioè non quindi Come hanno fatto I 5 stelle Con il web Ma dalla base Sì perché secondo me È importante Allora il web È uno strumento utile Noi lo usiamo tanto Anche perché non abbiamo soldi Quindi come dire È l'unico strumento gratuito Che si può usare E quindi lo usiamo Però io credo Che rispetto per esempio Alle votazioni sul web Che sono utili In alcuni casi Penso a territori Molto rari fatti Quindi dove è difficile spostarsi Penso a persone Che hanno disabilità Quindi bisogna dare Diciamo l'occasione E lo strumento Della partecipazione L'opportunità a tutti Certo Però non è sostitutivo Di un'assemblea Anzi Paradossalmente Io credo Che il voto su internet In alcuni casi Poi nasconda Meccanismi molto autoritari Io penso che i 5 stelle Siano molto autoritari E in realtà L'elezione di Di Maio A Premier L'ha dimostrato Stava Di Maio Mia cugina E quello del bar Sotto casa mia E chi devono votare Cioè Di Maio Sta in televisione Tutti i giorni Gli altri non li conosceva nessuno Come dire Mi sembra una finta democrazia Questa cosa Soltanto formale Come democrazia E poi E aggiungo soltanto questo Sulle candidature Noi non abbiamo Paracadutato nessuno Non abbiamo Fatto il giochetto Con le donne Io a questo ci tengo Perché Sono donna Noi non abbiamo Candidato la stessa donna In 5 collegi In 3 collegi In 4 collegi Per tenere il posto A qualcun altro Sono monocandidature Ma lei è candidata? No io sono portavoce E perché non è candidata? Perché? Per un motivo semplice Perché io a Napoli Che è la mia città Non ci sono stata Neanche un minuto Negli ultimi 3 mesi E siccome per noi La campagna elettorale Non si fa in televisione Ma si fa andando a parlare Con le associazioni Con i comitati E stando sul territorio Ci sembrava più utile Che potesse farla Qualcuno Che non avendo l'impegno Di andare in giro Andare nelle iniziative E andare a fare le interviste Potesse fare questo lavoro qui Lo so che è controcorrente Ma noi facciamo tutto al contrario È proprio il nostro motto Quindi La vostra caratteristica La nostra caratteristica Arturo Celletti Prima della domanda vera Mi dice una cosa Ma per lei che cos'è il Parlamento? Il Parlamento è uno strumento Eccezionale È un luogo Dove io penso Che si possa Far sentire la propria voce È un luogo Che però è stato Completamente svuotato Io le dico una cosa Siamo fra di noi Non ci sente nessuno No siamo soltanto noi No siamo fra pochi intimi Io è la prima volta Che voto alle politiche E voto Perché sono preoccupata E addirittura Assieme ovviamente A tanti altri Ci siamo costruiti Un movimento Perché siamo preoccupati Io nel Parlamento Ci ho creduto sempre poco Altrimenti avrei votato Ho sempre pensato Che l'importante Era fare politica dal basso Nelle associazioni Nei convitati Però oggi Io vedo Una deriva a destra Mostruosa Vedo tanta gente Che crede nei miei stessi valori Di solidarietà Del lavoro Che non sa chi votare Perché secondo me Grande alternative Non ne ha Perché lo dico sinceramente Non per tornare sull'EU Però Come dire Votare il partito Di D'Alema Di Grasso Come partito di sinistra Per uno che crede In determinati valori Appunto Centralità del lavoro Centralità dell'istruzione È paradossale E quindi ci siamo detti Proviamoci noi Quel video che si vedeva prima Col cellulare Fatto alle tre di notte Abbiamo detto Vabbè Non ci rappresenta nessuno Proviamoci noi Secondo me Già abbiamo fatto Un mezzo miracolo Io ce ne volevo fare una domanda Su Matteo Renzi Perché leggevo Spero di aver letto Anch'io bene Un giudizio molto astro Sul leader del PD Diceva in qualche modo Lui e la sua squadra Sono riusciti a fare Quello che nemmeno Berlusconi era riuscito a fare A che si riferiva? Cioè Qual è stato il vero guaglio Che ha combinato Matteo Renzi E ancora Da donna a donna E da donna Che guida un movimento Pieno di donne Mi pare Mi dice In tre parole Che pensa di Maria Elena Boschi Allora Matteo Renzi È la domanda più facile Della storia Che cosa fa? Che cosa non è riuscito A fare Matteo Renzi? Veramente Berlusconi Credo che ci abbia una foto In camera per ispirarsi Cioè In termini di distruzione Del lavoro E dei diritti sul lavoro Berlusconi ci ha provato E lui ci è riuscito In pieno col Jobs Act Ovviamente è un processo Più lungo Perché non è che La Fornero Il pacchetto Treu Non andassero in quella direzione Cioè di precarizzazione Di compressione dei diritti Però il Jobs Act Come dire È stato il capolavoro Da questo punto di vista Da un punto di vista Della scuola Io insegno Dal punto di vista Della scuola Una perversione Come l'alternanza scuola-lavoro Che è uno dei perni Della buona scuola È qualcosa di impensabile Cioè io credo Che appunto Berlusconi avrebbe sognato Di poter mandare Dei giovani A lavorare gratis Nelle imprese Nelle aziende E non c'è riuscito Non ce l'ha fatta A farla così E l'ha fatto Matteo Renzi Quindi al di là Del nome Dell'etichetta Che uno si dà Poi uno si può chiamare Di centro-sinistra Di centro-destra A pallini A strisce Resta il fatto Che sono state Le riforme Più liberiste Più spietate Per le classi popolari Che ci siano state Negli ultimi anni Riguardo a Mariana Naboschi Ma lei mi chiede Un giudizio da donna a donna Ma io do un giudizio Da cittadina Perché per me Il fatto che Una persona sia donna Se a uomo non ne fa La qualità positiva O la qualità negativa Penso che Mariana Naboschi Sia perfettamente in linea Con la politica del PD Penso che si sia anche prestata A questa storia Di farsi candidare Non nella sua città Ma altrove Per evitare critiche E penso che questo sia indegno Ma l'avrei detto lo stesso Se fosse stato un uomo Io non ho nessun odio Nei confronti delle donne Anzi Io credo che le donne Debbano essere solidali Ma Quando fanno il bene Delle altre donne Una donna che ha consentito La precarizzazione del lavoro La distruzione della sanità Ha attaccato per prime Le altre donne Perché noi queste cose Le viviamo doppiamente Perché se uno deve Gestire Una famiglia E' inutile dirci Che ci piaccia o meno E' ancora sulle spalle Delle donne Se uno deve Come dire Conciliare i tempi di vita Per le donne E' più difficile E gli viene precarizzato Il lavoro completamente E Naboschi In questo è complice E' una donna Che non è amica Delle donne Quindi il fatto Che poi porti la gonna O che sia Biologicamente donna Non la rende più amica O più simpatica Paolo Pedrecca Mi posso ricollegare Alla questione scuola Perché mi sembra Che poi l'istruzione Sia al centro Uno dei punti cardine Di quello che voi Proponete come il programma Che cosa fare? Perché è facile No questo è il paese Delle riforme E' facile essere critici Quando si sta fuori Dal fare la riforma Però tutto sommato Molti la criticano Questa buona scuola Molti criticano Tutte le misure Che sono state fatte Verso gli insegnanti E verso un tentativo Di miglioramento Della condizione Anche economica Degli insegnanti Ma che cosa Si può fare Di più E soprattutto meglio Intanto Mi faccio dire una cosa Il miglioramento E la condizione economica E' stato firmato Il contratto Tre giorni fa Due giorni fa E' un adeguamento Risibile Credo sia il termine Erano nove anni Che era bloccato Il contratto Gli insegnanti E' un adeguamento Cioè che si chiedeva L'adeguamento E' un adeguamento ridicolo Quindi vabbè E' stato fatto Uno poi può anche decidere Che gli insegnanti Li vuole far morire Però che ogni tanto Gli si dia un adeguamento minimo Non mi sembra Una gran conquista Mi sembra come dire Rispettare i diritti umani Cioè torniamo a quello Gli insegnanti sono Credo una delle categorie Più massacrate E non parlo soltanto Da un punto di vista economico Parlo anche da un punto di vista Del discorso politico E del discorso pubblico Negli ultimi anni Cioè per me gli insegnanti Sono la struttura del paese La scuola è la struttura del paese Cosa si deve fare? Dare più soldi Io non le dico cose Come dire Soltanto teoriche Posso dirle qual è La mia visione della scuola E certamente non è quella Dell'alternanza scuola lavoro E certamente Non è neanche quella Del preside manager Che fa il bello e il cattivo tempo E che in qualche modo Fa pressione Agli insegnanti E non li lascia Secondo me Pienamente Autonomi e liberi Nello svolgere al meglio La loro professione Ma al di là di queste questioni Io arrivo al dunque Se non si danno soldi alla scuola La scuola non funziona Noi possiamo parlare Di avanzamento tecnologico Di laboratori Quanto vogliamo Ma se non si danno soldi Non ci sono gli strumenti Per farle queste cose Ma dove trovarli Perché dare soldi Significa trovare coperture Certo Ma noi soldi Li vogliamo levare Ad alcuni Noi non vogliamo piacere a tutti Anzi c'è della gente A cui noi non vogliamo piacere affatto Noi i soldi Li vogliamo togliere A chi soldi ce li ha Quindi Chi in questi anni Ha sfruttato Chi in questi anni Di crisi In cui tutti Ci siamo impoveriti Si è arricchito Ora deve pagare Mi perdoni Ma attraverso una patrimoniale Qual è il sistema Che avete immaginato Un sistema fiscale diverso Noi immaginiamo Un sistema fiscale Maggiormente progressivo Perché È previsto Anche appunto Anche costituzionalmente Che lo sia Quindi che sia maggiormente progressivo Una patrimoniale E poi pensiamo Che alcuni settori Prima si vedeva anche nel video Si parlava degli F35 E della guerra Per me Che la Nato ci chieda il 2% Io non posso dire Perché Verò che siamo proprio Gli intimi Però Cosa gli risponderei Ma è assurdo Cioè le spese militari Sono soldi buttati Per quanto ci riguarda Come sono soldi buttati Tanti sprechi E Vorrei dire anche una cosa La dicono in tanti Però poi non la fa nessuno L'evasione fiscale In questo paese Una politica seria L'evasione fiscale Io ho letto Una ricerca fatta Dalla Cafoscari di Venezia Quindi non è che era Il partito bolshevico Che diceva che Rimediando L'evasione fiscale Recuperando l'evasione fiscale Noi rimediamo Al debito dell'Italia In 15 anni Cioè È una cosa Mostruosa Ci dobbiamo andare a riprendere I soldi Da questi signori Che non pagano le tasse Che non sono i lavoratori dipendenti Perché i lavoratori dipendenti Le tasse Le devono pagare per forza Quindi evidentemente È qualcun altro Allora Ricordandovi che Ai me mancano quasi Cinque minuti Alla fine della nostra chiacchierata Salvatore Dama Domanda velocissima Sul mercato del lavoro Allora Io ho visto il vostro programma Che proponete Le 32 ore Di lavoro settimanale Che sarebbe Una riduzione Rispetto All'attuale sistema Le volevo chiedere In Europa Diciamo c'è Ci sono state Le 35 ore In Francia Oramai sono 20 anni Alcuni dicono Abbiamo sbagliato Torniamo Torniamo sui nostri passi Adesso c'è in Germania Il tentativo Di fare una sperimentazione Sull'evento 8 ore Però a fronte Di una riduzione Salariale Quindi Volevo chiedere Sì Diciamo Su base volontaria Uno può scegliere Se lavorare di meno Ma può scegliere Anche di lavorare di più E guadagnare di più Volevo chiedere Secondo lei Perché può funzionare In Italia Una cosa del genere E poi C'è un altro Aspetto Che mi ha incuriosito Del vostro programma È la scala mobile Cioè la scala mobile È una cosa Diciamo un po' anni 80 Un po' spalline sotto la giacca È un po' vintage Cioè poteva funzionare Quando l'inflazione Era al 10% Adesso l'inflazione Allo 08 Che senso ha Indicizzare i salari Con il costo della vita Semplicemente questo Sì Allora Intanto Rispetto al discorso Di lavorare meno E tra l'altro Io lo sottolino Perché prima si faceva L'esempio della Germania Lavorare meno A parità di salario Perché lavorare meno Si può lavorare meno Insomma come dire Anzi Molte volte si lavora Molto poco Quindi Troppo poco Quindi c'è questo problema E molte volte però Si lavora così tanto Che ci si ammazza Il problema è che È trovare una mediazione Fra questo È una ricetta Io penso questo Al di là dei numeri È una ricetta È una scelta politica Io penso che si tratti Di scelte politiche In un mercato In un mercato del lavoro Dove c'è gente Che si ammazza di lavoro Fa tre lavori Di cui probabilmente Uno a nero Perché poi Anche questo Spesso non è sondato Ma invece esiste E ha un peso Ed è secondo me Uno schiaffo gravissimo Nel 2018 In un paese civile È impossibile pensare Che c'è gente Che si ammazza di lavoro E gente che cerca il lavoro Ed è disperata Un po' come vale Per il discorso delle pensioni Noi pensiamo A riequilibrare tutto questo Se noi rimettiamo I soldi Nelle tasche dei lavoratori Poi questa gente Li spende E quando si parla Di far ripartire l'economia Penso quando si parla Degli sgrevi alle imprese Eccetera eccetera Noi diciamo Che esiste anche Un'altra formula E che si tratta Di scelte politiche Noi possiamo continuare A dare i soldi A chi ce l'ha già Nella speranza Che prima o poi Li reinvesta e li spenda Nella speranza Che li reinvesta in Italia E non è detto Nella speranza Che li spenda E non è detto Perché può essere Che uno Come dire Se li mette In una bella banca In Svizzera Oppure possiamo provare A darli ai lavoratori A non farli ammazzare di lavoro In modo che possano lavorare Anche quelli Che oggi Forzatamente restano a casa E ricominciano le spese E l'economia riparte Non è soltanto Una scelta etica Per quanto ci riguarda È anche una scelta funzionale Riguarda All'adeguamento Del costo della vita Ne parlavamo prima Rispetto agli insegnanti E rispetto alle pensioni minime Gli adeguamenti Al costo della vita Sono necessari Bisogna trovare una formula Alcune formule Saranno anche un po' vintage Ma sono formule Di tempi in cui Si viveva Un po' meglio da adesso Io non sono una passatista Non penso come dire Che prima si stava sempre meglio da adesso Penso che chi sta male È sempre stato male Ma penso anche Che la povertà Che vediamo adesso E l'afflizione Che vediamo adesso Non si è mai vista Non solo perché Lo dicono le statistiche Che a volte Come dire Mischiano le carte Perché lo sappiamo tutti I numeri si possono leggere In tanti modi Io dico Alla gente che sta a casa Alla gente che Vuole riflettere su questa cosa Guardatevi intorno Come vi sembra Che sia la vostra vita Come vi sembra Che sia la vita Dei vostri figli È migliore o peggiore Io penso che la mia generazione È la generazione Più disperata Degli ultimi cento anni In Italia Con tutto che ci sono stati Belle tragedie E bei problemi Perché è la prima generazione Che non ha nessuna speranza Di vivere meglio Dei suoi genitori Ma neanche di vivere Allo stesso modo O noi affrontiamo Questo problema Che passa anche Per l'adeguamento salariale Oltre che evidentemente Per l'estensione dei diritti Oppure siamo destinati Semplicemente A rassegnarci A campare sempre peggio Senta Siamo proprio in chiusura Mancano poco più di 40 secondi Un motto Un suo motto Per chiudere Questa nostra bella chiacchierata Lo dicevo prima Facciamo tutto al contrario Quindi ripartiamo dai territori Ripartiamo dal basso Dai comitati Dalle associazioni E ripartiamo dalla politica Perché c'è una ventata Di antipolitica Ripartiamo dalla solidarietà E quindi dall'antirazzismo Da smetterla con la guerra Dai poveri E dalla politica Che è la cosa più bella del mondo Quando è fatta Bene Con onestà E con passione E cioè Trasformare l'esistente Trasformare la propria vita E rispondere ai propri bisogni immediati Non ci facciamo imbrogliare Da chi dice Ah no La politica è la cosa più brutta E deteriore che c'è La politica è una cosa bellissima Ma va fatta bene Grazie allora A Viola Carofalo Che è stata qui con noi Grazie ovviamente Ai nostri tre colleghi Che stoicamente Continuano a resistere Anche in vista Della prossima Terza conferenza stampa Che affronteremo tra breve Quindi non ci lasciate Ci rivediamo tra poco Grazie a tutti